Musica Taglio del nastro bagnato per l'hub educativo di Sforza Costa, costruito e donato dalla fondazione del tenore Andrea Bocelli. Oltre mille persone hanno preso parte alla cerimonia d'inaugurazione dell'8B dell'ABF Hub Educativo, dedicato ai bimbi dagli 0 agli 11 anni. E proprio a loro è andato il primo pensiero di Bocelli. Essendo sempre stato l'uomo del fare, l'idea di arrivare qui e vedere una struttura che in 150 giorni è stata riqualificata così bene per tanti bambini che hanno vissuto ciascuno nella sua dimensione una grossa difficoltà, una tragedia in qualche caso, è motivo di grande soddisfazione. Si tratta del secondo step dell'ampio progetto iniziato lo scorso anno con la costruzione del polo per l'infanzia 06. Un'opera di riqualificazione e rigenerazione urbana che darà vita ad una rinnovata scuola primaria e una serie di laboratori accessibili a bambini e famiglie oltre l'orario scolastico, compresi i fine settimana e il periodo estivo. Insomma, una scuola unica nel suo genere. La mattinata è stata aperta dalla visita dedicata ad alunni e famiglie che hanno potuto apprezzare in anteprima i nuovi locali della scuola di Via Natali, descritti così dal maestro Bocelli. Girando per le aule si capisce che siamo proiettati nel futuro perché al posto delle lavagne e con il gesso che c'erano ai miei tempi ci sono oggi i robot, ci sono i computer, ci sono strumenti elettronici, insomma ci sono tante cose che ai miei tempi non c'erano. Quello di Sforza Costa è il quinto intervento nelle zone delle Marche colpite dal sisma del 2016 ed è il frutto di una stretta collaborazione tra pubblico e privato. Anche grazie alla sinergia che si è fin da subito instaurata con il Comune di Macerata che ha consegnato a Bocelli la cittadinanza onoraria approvata all'unanimità nel Consiglio Comunale del 16 settembre. Insomma, una grande festa guastata solo un po' dal maltempo. Albano, tra gli ospiti speciali, ha intonato nel sole ma poi è arrivato l'acquazzone che ha costretto a cambiare la scaletta della cerimonia. Condotta dal giornalista Paolo Notari e dalla cantante Ilaria Della Bidia. Nel pomeriggio poi spazio all'intrattenimento alla parte istituzionale con i saluti sul palco del fondatore Andrea Bocelli, del vicepresidente Veronica Berti ma anche del commissario straordinario per il sisma 2016 Guido Castelli e del sindaco di Macerata Parcaroli. Poi tanti amici della Andrea Bocelli Foundation si sono uniti al maestro per la cerimonia d'inaugurazione da Albano Carrisi a Serenautieri. A tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questa splendida opera a tutti coloro che vi lavoreranno, che si impegneranno con un grande spirito di sacrificio va il mio più sentito grazie.